Domenica 28 luglio 2024 dalla vela, dalla strada tra i due porti di Pesaro partirà il raduno di queste BMW Serie M, la serie sportiva prodotta dalla casa di Ingolstadt in Baviera. Una giornata in cui i membri degli equipaggi che vedete alle nostre spalle saranno i protagonisti lungo le strade della nostra provincia, sfileranno con questi bolidi sportivi per una giornata sicuramente indimenticabile. Ci troviamo qui al porto di Pesaro con un raduno organizzato dedicato a solo BMW M che è la denominazione sportiva di BMW, quindi avremo vari modelli tra M2, M4 e le varie sportive di BMW. Faremo un giro che partirà da qui e andrà fino ad Urbino, Urbania, andremo fino a Gubbio, faremo qualche passo di montagna per farsi divertire i proprietari delle varie M e fargli dare un po' di gas in sicurezza nelle strade bellissime della riviera. Questa è una M4 Competition X-Drive, quindi 4x4, 510 cavalli, 3.000 biturbo e può essere staccata la trazione 4x4 e diventare tutta posteriore, quindi molto divertente se ci vuole divertire con dei drift. Secondo me è una delle M più maneggevoli per guidare, per fare un po' di drift. Monta un motore N55 da 370 cavalli, dopo l'ho modificato scarichi e da un pipe, quindi adesso ho 400 cavalli, però è molto divertente da guidare. Secondo me è una delle migliori M. Questa vettura in realtà sembra molto simpatica, così azzurra, molto carina, ma è molto cattiva, è molto potente, una bella macchina, molto veloce. Consuma come quattro spugne, non come una spugna, e quando va in pista arriva a fare un chilometro e mezzo con un litro, fortunatamente non la uso quasi mai, è sempre riposta nel garage in attesa di giri particolari. La usi per questi raduni? Sì, per i raduni, qualche pistata che si va a fare a Misano o Imola, queste cose qua. Gianluca Di Fabio, il papà del pilota Diego, invece ci racconta di questo progetto finanziato dal PNRR, Sport & Safe Driving School. Sì, la Sport & Safe è una società che è nata qualche anno fa, ha sede qui a Pesaro, in via Pierini, si occupa di corsi di guida sicura e sicurezza stradale. Oggi per la prima volta abbiamo organizzato questo tour, che è inerente sempre al discorso sicurezza stradale. Per quanto riguarda anche il discorso delle aziende, in particolare il discorso sulla sicurezza sul lavoro, tutto questo progetto riguarda anche questo, cioè possiamo anche utilizzare, le varie aziende possono utilizzare dei fondi pubblici che prevedono il discorso di sicurezza stradale, quindi sicurezza dei propri dipendenti.